Cari amici di notaresconelcuore.it, abbiamo l'onore di avere con noi Toni Capozzo. Per chi non conoscesse Toni Capozzo, sfido chiunque a non conoscere Toni Capozzo. Ma chi è Toni Capozzo? Sono un, guarda, a me penso che finisimo un cronista, che è, diciamo, il cuore, l'anima, la base della professione di giornalista. Oggi il giornalismo è tutto, è tantissimo, sono le iniziative le più classiche, le più grandi, fino a le iniziative come la vostra, come quello che mi è successo, fino a quello che viene chiamato il giornalismo dei cittadini, tramite l'Irola, sull'Inter. Io per quello che mi riguarda mi considero un vecchio artigiano, è un giornalismo più normale, insomma, cronista, non mi piace le definizioni, il viato di guerra. Quello che so per certo è che quello che continuo a fare lo faccio con grande passione. Beh, ha detto bene. Non vorrei mai che lo sapesse il mio editore, ma andrei anche gratis. Ha detto bene. E come nasce questa passione? Non sognavo di fare giornalista, mi piaceva molto viaggiare, mia nonna lavorava a camioniera, a scuola, quindi il contatto molto per me è fatto di, la vedevo tornare da lunghi viaggi, mi piaceva molto viaggiare e mi è sempre sottoscritto. Alla fine ho trovato un lavoro che mi può sentire di unire le due passioni. Benissimo. Un'ultima cosa, un saluto a tutti noi di Notaresco che la guardiamo e che la stimiamo tantissimo. Un carissimo saluto a tutti gli amici di Notaresco e in particolare un forte augurio a Notaresco nel cuore, che abbiate davanti una carriera lunga e con qualche soddisfazione. Grazie mille, gentilissimo.